La Juventus sta attraversando un momento finanziario difficile, e cerca di tagliare le spese per restare nei canoni del fair play finanziario, e ritiene che il modello economico e sportivo del Napoli possa essere utile per questo. E secondo quanto riporta Repubblica, la Juventus sarebbe interessata a ingaggiare il DS del Napoli cristiano Giuntoli, diamo un'occhiata. Se ami il Napoli e non vuoi perderti le ultime notizie sulla tua squadra, iscriviti subito al canale, lascia un mi piace e attiva le notifiche. Giuntoli è responsabile della costruzione di una squadra del Napoli da record che è stata competitiva nel campionato italiano e in tutta Europa, e la Juventus spera che possa fare lo stesso per il suo club. Tuttavia, Giuntoli è attualmente legato al Napoli con un contratto fino al 2024, e il presidente del club Aurelio de Laurentiis non vuole separarsi da lui poiché è stato determinante per il successo del Napoli. Inoltre, Giuntoli sarebbe interessato a continuare il suo lavoro al Napoli, dove ha costruito una rosa da record e vuole costruire su quella rosa, includendo giovani talenti come Quarazchelia, Chime e Raspadori. Crede inoltre che ci sia la possibilità di aprire un ciclo di successo con questa squadra, forse anche in Europa. Non avrebbe quindi intenzione di trasferirsi alla Juventus, deve restare al club almeno per un altro anno e mezzo. Allora tifoso, sei d'accordo che Aurelio de Laurentiis debba tenere più a lungo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli? Lascia il tuo commento, è molto prezioso. Per ulteriori notizie, iscriviti al canale e segui i video giornalieri.